La legge si è andata all'ONU, ci deve dire tante cose dal mio punto di vista. Cosa ci deve dire? O che serve Grillo quando... Ma ci deve dire che è evidente che il capo politico da solo, come dire, non dirige nulla perché poi quando c'è stato bisogno di votare l'accordo col PD comunque è stato ritirato fuori Grillo che ha dovuto fare, come dice lui, il garante, come dire io, l'influenzatore nel dire, beh no, ma dopo tutto col PD stiamo bene.